Oggi i circoli stanno manifestando qua davanti al municipio per chiedere al comune di prendere provvedimenti in modo da consentirvi di continuare l'attività e superare questa fase critica. Sì esatto, siamo venuti qui proprio perché siamo ripiombati nella situazione in cui eravamo dopo il primo lockdown, in cui la normativa non chiara non ci consentiva di aprire. Infatti la prima volta erano passati i vigili che ci avevano avvisato di questa situazione e ci avevano costretto a chiudere. Ci ritroviamo nella stessa situazione in questo momento proprio perché c'è il passo del DPCM che non è chiarissimo e quindi dà dito a diverse interpretazioni da parte delle associazioni, quindi degli enti affilianti che ne so come ECS, ENAC, insomma ognuno dà un parere diverso e alla fine non è chiaro. Noi stiamo chiedendo al sindaco che faccia chiarezza su questa situazione per quello che riguarda la città di Nuoro, dire la sua interpretazione con un'ordinanza, così come ha fatto la volta scorsa che ci ha permesso di riaprire. Oggi un incontro con i rappresentanti dei circoli che vi hanno chiesto di trovare una soluzione al fatto che al momento sono chiusi. Cosa intendete fare? Noi abbiamo raccolto il grido di dolore dei rappresentanti dei circoli culturali e ricreativi inuresi che rappresentano una buona fetta della realtà cittadina e abbiamo preso l'impegno di trovare una soluzione, naturalmente nel rispetto delle norme superiori che sono quelle dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per consentire a queste realtà importantissime della città di continuare a operare nel rispetto sempre delle norme statali. Ci siamo aggiornati da qui a qualche ora per elaborare un provvedimento che consenta di rispettare le norme del DPCM, ma allo stesso tempo di garantire loro l'esercizio di quelle attività che sono consentite ad altre realtà.